Località Noce d'Ore, Luco dei Marzi, 17 dicembre 2019, ore 15. Osserviamo questo splendido scenario. Qui più avanti c'è la biforcazione. Sul lato destro è il circuito Floride che prosegue verso il Comune di Trasacco e quest'altro sul lato destro c'è l'ascesa che conduce in località Fonte San Leonardo. Questa è la strada, il lato nord, provengo là dal Comune di Trasacco e qui vicino i miei genitori, anzi i miei nonni, avevano un terreno. Prima questi terreni erano tutti seminati. Qui abbiamo una splendida flora, guarda, anche la fauna, veramente bella. Posti meravigliosi e frequentate a molte persone, sabato e domenica, soprattutto gente per passeggiare, per rilasciarsi, per fare sport, per dimagrire. E anche per scaricare l'attenzione nervosa. E' veramente prima ero oggi. Una bellissima giornata. Vabbè, dopo tanto, ma tempo, freddo. Ten besti video secondi, si vuole acquistare il tempo.